ma Rocco Bras che delusione oh no ho scoperto che Adrian Fartad era a Torino e ma loro era a Torino nato a Torino? eh? nato e morto qua nel paese delle mezze vita dove fuggi in Italia la mafia e i massoni dove ce li abbiamo noi in Italia gli streamer con la piscina e quelli che fanno le reaction dove sono in Italia i freebooter pazzi e chi fa le risse il in Italia chi va in giro con il cane e lo sugar daddy in Italia chi fa le live e poi non le fa più perché viene bannato in Italia Berlusconi e Briatore in Italia ci sono cose che nessuno ti dirà ci sono cose che nessuno ti farà sei nato e morto qua nato e morto qua nato nel paese delle mezze verità dove fuggi in Italia dove fuggi in Italia bravissimo 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 allora grazie grazie Grazie.